L'Ecoline Acqua Naturizzata è un'azienda presente a Siena dal 1994 e operiamo in centro Italia nel settore della depurazione dell'acqua da bere. La nostra missione qual è quella di dare la possibilità in particolar modo alle famiglie, al ristorante, agli hotel ma insomma dove si beve acqua di poter utilizzare l'acqua che proviene dall'acquedotto migliorandola, depurandola, eliminando cloro, inquinanti chimici eccetera ed evitare di andare a comprare grossi quantitativi di acqua minerale in bottiglie di plastica. La plastica come sappiamo da molto tempo ne parliamo ma in particolar modo di recente è stato appurato che è un grosso problema a livello globale. Noi diamo contributo grosso all'eliminazione di questo problema quindi a noi si possono rivolgere tutte le famiglie, ristoranti, hotel per avere la soluzione adatta alle loro esigenze ed avere la possibilità di ottenere dal proprio rubinetto un'acqua buona anche fredda anche gassata e quindi eliminare tutte le problematiche che può creare l'acquisto dell'acqua minerale. Ho scelto Ecoline per un mondo senza plastica comoda buona ed ecologica per un'acqua minerale. Ho scelto Ecoline per un'acqua minerale. Ho scelto Ecoline per un'acqua minerale